Buonasera, noi ci chiamiamo Sky Sport 24, noi abbiamo il piacere di avere con noi il ministro dello sport italiano Piero Gnudi, per cui è chiaro che ospite più di prestigio per noi non ci potrebbe essere, peraltro anche appassionato di Sky Sport 24, lei conferma? Certamente. Per cui già partiamo molto bene. Allora, l'iniziativa ve la faccio molto breve, qui a Roma è Tutti CT, poi tra poco ospiteremo anche alcuni dei CT che sono stati presenti qui, alcuni erano in videoconferenza in collegamento con noi, disposizioni per l'istituzione del Fondo Nazionale per l'impiantistica scolastica sportiva, vuol dire insomma riuscire a trovare, e questa è la prima domanda ministro, un po' di soldi per mettere a posto le palestre italiane, perché un euro investito oggi su un bimbo delle elementari che impara a fare attività motoria, vuol dire forse risparmiarne 10 tra una ventina d'anni. Anzitutto io voglio ringraziare i commissari tecnici di più importanti sport italiani che si sono uniti per promuovere lo sport, perché questa è la forma di promozione dello sport, perché lo sport parte dalle scuole. Certamente noi abbiamo una situazione di impianti che è assolutamente insufficiente, abbiamo la metà degli impianti sportivi che ha la Francia, però certamente siamo in un periodo di cui purtroppo il denaro è poco, si può fare degli sforzi, ma si può anche forse utilizzare meglio gli impianti che abbiamo, cercando di avvalersi di un patrimonio che in Italia c'è, che sono le 95.000 azioni sportive che possono utilizzare meglio questi impianti. però certamente nei prossimi anni bisognerà mettere mano forse un po' al portafoglio e aumentare la qualità soprattutto degli impianti e soprattutto degli impianti delle scuole. Mettere mano al portafoglio forse di questi periodi è probabilmente la cosa più difficile da fare. Esiste questo portafoglio, questi soldi? Io ho assistito tutta la conferenza, insomma, dovrebbero essere reperiti un po' sulle accise, sulle scommesse sportive, un po' sui tabacchi, un po' sugli alcolici. Queste sono proposte che il governo deve valutare e soprattutto deve valutare gli organi a ciò deputati, ma qualche sforzo va fatto e cercheremo di farlo. L'argomento è sicuramente importante. Un'altra domanda che mi viene spontanea però, avendo il Ministro dello Sport, è quella sulla legge per la costruzione dei nuovi stadi in Italia. Io sono abbastanza ottimista. Mi sembra che abbiamo fatto dei progressi. Conto, credo, in pochi mesi di riuscirla a finire il percorso desilativo. In un periodo come questo, di ristrettezze economiche, mettiamola così, come ha visto lo sport dal governo italiano? Le tocca spingere per riuscire a ottenere qualcosa? No, ma vedi, tutto il governo credo che siano profondamente convinti che lo sport ha un valore educativo, soprattutto per i giovani. Aiuta a formare i giovani, aiuta a far sì che i giovani affrontano le sfide della vita. Non investire nello sport vuol dire non far crescere il capitale umano di un paese. Non so se ci sono domande da studio, perché il Ministro ti ascolta e immagino che l'occasione si agghiotta. Sì, io innanzitutto volevo sapere dal Ministro Gnudi se è tifoso di una squadra, perché è di Bologna e immagino che sia tifoso del Bologna, oppure no? È logico. È logico? È logico. Quindi posso farmi la domanda successiva? È difficile trovare uno che non sia... della propria città. È vero. Quindi no, dicevo, posso fare la domanda successiva, perché essendo tifoso del Bologna è super partes. Le spiego il perché. Quando si è insediato il governo Monti, era il momento in cui noi stavamo parlando del famoso tavolo della pace, quello che doveva riunire la Juventus, l'Inter per lo scudetto del 2006. E all'epoca anche il Presidente della Federcalcio Abete aveva parlato di una chiamata per il Ministro dello Sport e quindi proprio per lei. Io volevo sapere se è mai arrivata questa chiamata. No, ma non doveva neanche arrivare, perché sono problemi che non riguardano al mio Ministero. Però è una pace che non si riesce a trovare e forse bisognava cercare molto in alto per trovare una soluzione. Ma io penso che alla fine si metteranno d'accordo. Non c'è bisogno di un Ministro per mettere d'accordo delle squadre che sanno benissimo quali sono i loro interessi e come tutelarli. Ministro, anche io volevo divagare un attimo, perché il governo del quale lei fa parte in questi giorni è impegnato soprattutto nel, anche qui è un tavolo della pace, quello che la ospichiamo di discussione, quello sulla riforma del lavoro. Lei ricorderà che in estate c'era stato un dissidio tra la Lega Calcio, che è la Confindustria delle società di calcio, e l'Associazione Calciatori, che è il sindacato dei calciatori. Tra le proposte avanzate, che sembravano avanzate dalla Confindustria del calcio, c'era anche quella di essere meno legati ai contratti a lungo termine, cioè di proporre in pratica una sorta di buon'uscita nel caso non si volesse rispettare il contratto con il calciatore in caso per esempio di retrocessione. Facciamo un esempio, tanto qui non si può anche giocare con la scaramanzia perché il Bologna mi sembra obiettivamente già abbastanza tranquillo. Il Bologna ha un super contratto, che ne so, con Marco Divaio o con Diamanti. Nel caso di retrocessione in Serie B, questo super contratto può essere compensato con una buona uscita e il giocatore è libero di trovarsi un nuovo impiego, diciamo così. In questi giorni di riforma del lavoro, è arrivato per caso dal mondo dello sport in generale, ma soprattutto dal mondo del calcio, un segnale per aprire un capitoletto anche di questo genere. Credo che in questo momento si stanno affrontando problemi così complicati che mi sembra questo un tema che possa aspettare di essere risolto in un periodo successivo. Questo senza dubbio, questo senza dubbio. Però noi ci occupiamo di sport, quindi insistiamo su questi argomenti. Vorrei un attimo ritornare sulla domanda che le ha appena fatto Stefano Meloccaro, ovvero quella sulla legge sugli stadi, perché lei ha detto che probabilmente arriviamo ad una soluzione in breve tempo. Volevo sapere quali sono i termini e anche la tempistica, se ci può dire, se ce la può definire. Io penso che ci è giunti già un sostanziale accordo sul testo della legge. Adesso naturalmente mancano alcuni passaggi parlamentari. Sulla tempistica è difficile fare previsioni, ma io penso che qualche mese ce la dovremmo cavare. Bene, insomma questa è una bella notizia anche per tutti quelli che vogliono andare allo stadio, ma anche per chi lo stadio deve costruire e poi gestire, insomma perché è fonte importante per che tornino i conti per tutte le società di calcio e non solo. Grazie allora al Ministro Gnudi, Stefano grazie a te anche perché insomma è la prima volta che intervistiamo un Ministro Sara. Sì, credo proprio di sì, siamo particolarmente onorati e continuo a seguire Sky Sport 24. Grazie, sicuramente. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, nonostante le mille domande... Grazie, grazie. 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 Grazie.